Gentili come lei non abbiamo mai conosciuto nessuno, lei aveva sempre un ottimo rapporto, era sempre gentile, seguiva le cose, si interessava, era sempre molto gentile. È stata la cosa che più mi ricorderò di lei, che non è facile in questo mondo trovare gentilezza. Ho condiviso con lei due serie che mi ha fatto molto piacere farle e mi ha fatto molto piacere conoscerla e spero di rincontrarla. Grazie.